Una delle sfide della CSR oggi si gioca al tavolo della misurazione dei progetti che presentano un impatto sociale. Le iniziative sono disegnate e realizzate coerentemente? Le risorse sono impiegate nel migliore dei modi? E soprattutto viene generato un cambiamento reale? In collaborazione con l'associazione no profit Social Value Italia, il workshop riservato ai soci di CSR Manager Network si è posto l'obiettivo di presentare criticamente i sistemi di misurazione più diffusi e condividere una serie di esperienze concrete da cui ricavare idee e spunti di riflessione. Davide Dalmaso e Federico Mento per Social Value Italia hanno presentato lo scenario, seguiti da una tavola rotonda moderata dalla professoressa Langella di Altis in cui hanno presentato le proprie best practice Giovanna Bottani di ST Microelectronics, Fabrizio Furbini e Simone Martinelli di Enel, Giuseppe Milici del gruppo Hera e Davide Della Valentina di Renovo.